9 di ottobre 2014, seconda prova Italian Drawdown, box crossfit inter 5-9, giudice Roberto Vatti, finale in breve. Ok, Rogue, arrivo eh, Rogue 20 kg, 2,5 kg e 15 kg, e l'altra tra fila dei 2,5 kg, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, il fine e mezzo, ok, misura per il box jump, ok, tocca, fanno il metro, 16 cm, 2,5, 5, Teams, 2,5, 1,2,3,2,5, 2,5, 2,5, 1,1,3,4, 5, 2,5, 2,5, 1,3,4, 6, 2,5, 1,1,&2,1,&2,1,&2,1,&2,1,&2,&1,2,1,&2,&3,1,&2,&2,&2,&2,&2,&2,&2,&3,&3,&3,&3,&2,&2,&2,&3,&2,&2,&3,&2,&3,& abstinete,ils,Aался, 1,2,&3,&3,&3,&2,&3,&2,&3,&3,&4,&2,&3,&1,&2,&3,&2,&1 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.